Sono Simona, ho 37 anni e sono marchigiana. Vivo nella provincia di Ancona e lavoro per un e-commerce. Ho scelto di iscrivermi a Digital Coach perché appunto l'intenzione era quella di approfondire determinate attività del digital e poter sviluppare in questo modo delle competenze operative a livello avanzato. Grazie appunto alla possibilità di studiare online, on demand, ho potuto seguire tutti i moduli con la libertà di studiare a seconda dei miei orari, delle mie disponibilità, quindi in particolare la sera o il weekend e questo è sicuramente molto importante per chi lavora o per chi appunto vive in altri posti. Ho apprezzato molto il fatto che i docenti sono comunque dei professionisti nel loro settore, per cui questo significa che in ogni modulo venivano condivise anche delle esperienze vissute da loro direttamente nella loro attività e quindi dati anche consigli pratici che sicuramente sono molto utili soprattutto nel settore digita. Ho fatto due work experience e in particolare ho seguito la prima in SEO copy e appunto ho imparato a scrivere delle pagine web adatte dal lato SEO e questo mi ha permesso sia di imparare ad utilizzare ad esempio WordPress come anche degli strumenti specifici come la ricerca delle parole chiave Google. Poi ho scelto di fare anche un'altra work experience che è quella che sto tuttora svolgendo in web analytics e questo mi permette di appunto imparare ad utilizzare lo strumento di Google Analytics e in particolare in questo momento stiamo monitorando insieme agli altri colleghi della work experience le performance che stanno ottenendo studenti di altri team della work experience. Sicuramente mi ha aiutato nel lavoro anche ad essere più propositiva e dare magari delle possibilità di miglioramento delle soluzioni da poter proporre. Assolutamente sì sicuramente perché comunque mi ha permesso appunto di arricchire le mie competenze e di restare aggiornata su determinati temi che sicuramente sono fondamentali nel mondo del digital. Grazie a te, un saluto, ciao!